buonasera amici vi presento le ultime notizie no che ci avvincono sempre di più su questo che è il gioco più bello del mondo dice avvincono allora novità se mi si carica la pagina dal primo luglio 2023 cambia il calcio ma arrivano ste notizie cambia il calcio che già mi sento male ma che è successo cambia il calcio arriva una novità epocale e vi vado a leggere l'articolo di enrico coggiola coggiola non so chi sia diciamo sintetizzo un po come tutti sappiamo negli ultimi anni il calcio ha subito tante tantissime trasformazioni alcune delle quali hanno fatto capo al settore arbitrale dapprima la gold line technology quindi quel meccanismo che ti segnala c'è la palla avvarcato la fatidica linea per evitare i cosiddetti gol fantasma poi il famosissimo var o meglio la var la tecnologia lavare il var quello che decide visiona le immagini per cercare di aiutare gli abiti nelle decisioni dubbie la novità dell'ultimo minuto è invece inerente alla cosiddetta gestione delle partite cambia la durata delle partite sentire leggere un articolo cambia la durata delle partite è clamoroso ragazzi ma adesso vi spiego meglio l'ifab international football association association board l'ha ufficializzato cambierà il recupero parliamo quindi dell'organo decisionale arbitrale che ha il compito specifico di modificare i regolamenti che ha deciso di continuare con quanto si è visto nel mondiale in catar 2022 con la cosiddetta direttiva dei recuperi monstre la modifica riguarda la regola numero 7 che concerne la durata della partita in particolare è stato modificato il comma 3 ossia quel paragrafo che riguarda i tempi di regola nuova voce interita darà la possibilità agli abiti di recuperare anche il tempo perso per le esultanze tramite il regolamento stesso infatti il comma 3 della regola 7 includerà anche le esultanze che prima venivano contrassegnate con qualsiasi altra causa morale della favola l'abbati di partenza per il recupero dovrebbe essere quindi di oltre 30 secondi per i soli festeggiamenti come se fosse un cambio ma noi sappiamo che spesso i festeggiamenti si protraggono anche per due tre minuti quindi considerando questa modifica i recuperi potrebbero diventare lunghissimi quasi un mini supplementare non sarà raro vedere anche dieci minuti di recupero con gli abiti che potrebbero valutare in maniera più importante le perdite di tempo anche le perdite di tempo e quindi si va verso praticamente il cosiddetto tempo effettivo che c'è nel basket alla lunga ci si arriverà la norma entrerà in vigore dal primo luglio 2023 e quindi a partire dalla prossima stagione è una primizia è un'anticipazione il trend mi sembra che lo abbiamo capito qual è ridurre al massimo tutte le perdite di tempo ma nello stesso tempo diciamo la verità allungare un attimino il brodo perché quei dieci minuti in più che la gente sta la vita è anche questa davanti alla televisione allo stadio eccetera è tutta è tutta tutta pubblicità in più che tesor bisci insomma più tempo per capito per i vari spot per tutto quanto quello che tutto l'ambaradamma che ci piaccia o meno sta intorno al gioco del calcio però sarà comunque ricordate non all'esordio dei mondiali durò mi pare 10 minuti proprio il recupero di alabia saudita argentina sarà un modo anche di punire diciamo quei comportamenti tesi a guadagnare tempo eccetera perché tanto poi sa che ci sarà poi un lungo recupero e quindi c'è una novità che certamente non passerà inosservata la novità importante che vi ho voluto segnalare questa sera continuare a seguirmi un abbraccio